Ciao ragazzi, volevo farvi una recensione di questa batteria è una batteria per Nikon D5100 un attimo che... ok, ok, ok ok, l'ho comprata da Aliexpress l'ho pagata 9 euro, non mi ricordo è un po' costosa, però alla fine è una batteria buona io con la mia Nikon ci scatto parecchie foto per tante, tante foto si scarica di più naturalmente come quella originale facendo video ma è una batteria da sostituire in caso di emergenza quanto hai scarica a quella della Nikon e niente, vi lascio semmai il link in descrizione della batteria è una buona batteria le votazioni sono buone pure l'ho comprata come vi ho detto sempre da Aliexpress io ci compro spesso da quel sito ci compro parecchie cose e niente, ragazzi, alla prossima recensione ciao ragazzi, mettete un mi piace iscrivetevi se vi va ciao